Ci troviamo sul red carpet a pochissimi passi dall'arena perché sta per andare in scena il terzo spettacolo firmato Intimissimi on Ice. L'arena di Verona scintilla sotto i riflettori di Intimissimi on Ice. Per il terzo anno torna in scena con uno spettacolo in grado di fondere magistralmente musica, moda e patinaggio. Gli ice skaters più famosi del mondo riuniti per uno show prodotto da Sandro Veronese, presidente del gruppo Calzedone S.P.A. Balic Worldwide Shows, rappresentato da Marco Balic, il re delle cerimonie olimpiche, e opera on Ice, incarnata dalla creatrice dello show Giulia Mancini. Stefan Lambiel, Carolina Cosner, Eugenie Pruvchenko, Kira Corpi, accompagnati dall'incredibile voce del tenore Andrea Bocelli e vestiti in capi Intimissimi dal quattro volte premio Oscar Milena Cannonero. Let the show begin, Intimissimi on Ice, One Amazing Day. Vi dovete aspettare uno show ancora più spettacolare degli altri anni perché ci sono dei grandi campioni. C'è Klushenko, che è la star, lo zar in discorso del patinaggio, Kira Corpi, che vedete una bellezza del Grace Kelly nel ghiaccio, e poi con il grande maestro Bocelli. Quindi sarà da brividi, sarà ancora uno show più innovativo, più moderno e dentro una spettacolare arena. Sono felice di lavorare per Intimissimi on Ice e felice di patinare qui all'arena di Verona. È storia, c'è una grande atmosfera qui, una bella energia. Penso che amerita lo show, è incredibile, i costumi, la musica, Bocelli. È una leggenda, la sua voce è fantastica. Sicuramente è un show, un spettacolo unico. Riuscire a collegare i sportivi con la musica e fare un evento tipo musical, secondo me è veramente unico. Ci descrivi il tuo outfit per questa sera? La mia gonna è di Atelier Emè e poi ho una maglietta di Intimissimi. Le scarpe sono di Stella McCartney per H&M e il trucco è mio. Ovviamente, allora sei emozionata per lo show che sei fatto? Molto emozionata, sono felicissima. L'arena è incredibile, Verona è una città fantastica e sono veramente emozionata. Amo la famiglia, è intimissimi. Sono molto emozionata per questa sera perché penso che lo show rifletta molto cosa a Intimissimi. È elegante, è sexy, è creativo, è diverso, lo amo. Indosso un vestito Murad, scarpe Céline e il reggiseno, beh, il reggiseno è intimissimi. La prima volta per me a Verona, la prima volta che vedo Intimissimi è un'ice. Andrea Bocelli è un'icona, un tesoro nazionale, una voce incredibile, un talento enorme e abbiamo avuto un momento speciale prima qui.